Beh, sicuramente è una partita molto molto importante, come lo sono state le ultime e come spero lo saranno anche le prossime. I numeri dicono con tre volte in panchina Oddo e Pescara ha vinto tre partite. Si aspettava lei un approccio così positivo, al di là dei risultati anche del gioco che la squadra è riuscita a proporre? Ma diciamo che è andato tutto bene, l'allenatore ha fatto il suo, i giocatori soprattutto hanno fatto più del loro, si stanno comportando benissimo e tutti quanti, anche compreso il pubblico, sta facendo la sua parte e quindi diciamo che ci sono tutte le componenti per fare bene anche domani. Secondo Franco Oddo, cosa non dovrà fare il Pescara che invece ha fatto nella gara d'andata per riuscire a passare il turno? Questo lo sa Massimo Oddo, io diciamo che ho la mia opinione, però sicuramente, probabilmente collino con quella di Massimo, ma sicuramente è lui che deve ragionare con la sua testa, che fino ad adesso ha fatto bene, quindi farà bene anche domani sicuramente. Goddo sarà sulle tribune del Menti domani? No, preferisco stare tranquillamente a casa, si vede meglio la partita.